Con questa nuova banda abbiamo messo a disposizione un altro milione di euro. Fino ad oggi, nei primi sei anni, abbiamo finanziato progetti per oltre 23 milioni di euro. La prospettiva di investimento che abbiamo, l'impegno che abbiamo verso le persone con sclerosi multipla è quello di investire altri 30 milioni nei prossimi cinque anni. 30 milioni che ci devono permettere di avere dei farmaci e non solo delle proposte di molecole e soprattutto ci devono far capire come fermare la progressione e come riparare il danno.